L'esplosione poi, il crollo notte di paura a Napoli, è successo nei pressi del Museo archeologico nazionale. Lo scoppio forse provocato da un problema elettrico. Una persona è stata portata in ospedale per ustioni. Diverse famiglie sono state sgomberate. Pozzuoli, mazzette versate nella sede della regione. L'inchiesta sull'appalto a Rione Terra, il denaro intascato da oddati negli uffici della regione a Roma. Un tariffario sfacciato, l'ha definito il GIP. E libera accusa, fatto grave, si rifletta sulla qualità degli amministratori. Campo Rom, Michelle morta prima di andare a scuola. Era pronta per il suo primo giorno in classe la bimba di 7 anni folgorata nel campo Rom di Giuliano, cordoglio del sindaco Pirozzi che ha chiarito grande dolore. Confidiamo nel progetto Abramo per scolarizzare la comunità. Inflazione e Benevento è tra le città più care. Inflazione alle stelle, il capoluogo sannita secondo l'Istat e la città in cui i prezzi sono cresciuti di più nell'ultimo anno. I cittadini confermano nel settore dei generi alimentari le maggiori speculazioni. Ambulanza in ritardo, scontro nel Salernitano. Il sindaco di Scafati denuncia. Per un incidente sono arrivate due ambulanze in ritardo e senza medico a bordo. Il DG dell'ASL replica, scontiamo l'assenza di medici ma serve il dialogo per risolvere i problemi. Buongiorno a questi titoli del nostro TG. In apertura il crollo in un edificio in zona museo a Napoli. Un ferito ricoverato al Cardarelli per alcune usioni solo 24 ore prima. Un altro cedimento a Secondigliano con nove appartamenti evacuati. Vediamo il servizio. Due crolli nel giro di 24 ore. Ne allarme a Napoli. Ieri sera paura in un palazzo del centro nei pressi del Museo archeologico nazionale. Una persona è stata portata in ospedale per ustioni e altre sono state sgomberate. Sul posto sono intervenute squadre della polizia locale e dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause del crollo, anche se alcuni parlano di uno scoppio provocato forse da un problema elettrico. Sarebbe esclusa invece la fuga di gas. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Cardarelli dove ha avuto 30 giorni di prognosi per ustioni. Il crollo, verificatosi in un edificio di Vico del Pero, ha interessato un locale bagno al piano terra e un locale al primo piano, disabitato. Solo 24 ore prima un solaio era crollato in una palazzina di due piani a Secondigliano. Non si sono registrati feriti. Nove appartamenti dello stabile sono stati evacuati dopo il primo cedimento. I detriti caduti nel cortile di una palazzina a Tigua hanno poi determinato lo sgombero di altre due abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, polizia municipale e protezione civile. Le mazzette per l'appalto al rione Terra intascate negli uffici della regione Campania a Roma. È un tariffario sfacciato così come l'ha definito il GIP. Sentiamo. Un tariffario sfacciato è quello che, secondo la procura di Napoli, Nicola Odati avrebbe preteso per favorire l'imprenditore Salvatore Musella che aveva messo gli occhi sul recupero del resort turistico e alberghiero sull'antica rocca del rione Terra a Pozzuoli. Un'intermediazione, quella dell'ex esponente del PD, retribuita con migliaia di euro e regalie varie è la tesi accusatoria che ha portato all'arresto del dirigente regionale che avrebbe intascato il denaro negli uffici di rappresentanza della Campania a Roma. Nell'ordinanza del GIP inoltre si fa riferimento a come l'ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, si comportasse come un monarca. Accuse che la fascia tricolore ha però rigettato, sottolineando come avesse sempre deciso nell'interesse esclusivo della città. Il quadro emerso nelle indagini della Procura Partenopea consegna uno spaccato inquietante e la denuncia di Libera. Quello che si configura attorno agli elementi che emergono sono sicuramente di una gravità allucinante. Ciò che la magistratura fa emergere è in continuità con quello che è avvenuto in queste settimane a Palma Campania, a Poggio Marino e in questi anni con gli scioglimenti dei consigli comunali. Questo ci fa riflettere molto sulla qualità della classe dirigente locale, dei partiti, delle liste civiche. Se confermate, le accuse sono particolarmente gravi anche sul fronte ambientale per uno dei territori più belli e fragili della Campania. Siamo di fronte ad un fatto grave, gravissimo, non soltanto perché si tratta di un'attività che ha a che fare con la corruzione ma anche sulla speculazione di uno dei beni pubblici dall'alto valore artistico e culturale più importante della Campania. Era pronta per il suo primo giorno di scuola Michelle, la bimba di 7 anni, morta folgorata nel campo Rom di Giuliano, il cordoglio del sindaco Pirozzi che è ospite della trasmissione Punto di Vista, ha chiarito una tragedia nella tragedia. Sentiamo. Michelle era emozionata e fiera di andare a scuola come tutti gli altri bambini. Il 15 gennaio sarebbe stato il suo primo giorno tra i banchi ma in quell'aula non ci andrà mai, non userà quei quaderni e quei colori, non salirà su quel pulmino, è morta folgorata da una scarica elettrica a 7 anni nel campo Rom di via Carraffiello a Giuliano dove viveva con la sua famiglia. La scuola dove era stata iscritta insieme ad altri 50 bambini Rom grazie al progetto Abramo voluto da prefettura, comune e regione le ha dedicato un minuto di silenzio e una preghiera lunedì, vuota la sua sedia, un dramma che addolora tutta la comunità di Giuliano. Come ricorda il sindaco Nicola Pirozzi, ospite della trasmissione Punto di Vista condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Quando una comunità perde una giovane vita è una tragedia, in questo caso è una tragedia nella tragedia perché una bambina ha perso la vita in modo drammatico e non si riesce a trovare senso a tutto ciò. Da padre non riesco nemmeno a immaginare il dolore dei genitori e dei familiari. A fare ancora più male l'idea che la piccola stesse per cominciare un percorso che le avrebbe sicuramente cambiato la vita. Michelle doveva iniziare il primo giorno di scuola, questo è il drammatico perché non viene di è successa la tragedia ma la bambina se stava a scuola come doveva essere questa tragedia non si verificava. Una tragedia nella quale noi stiamo ponendo agile grazie al progetto regionale di Abramo. Violento pestaggio dopo una lite per motivi di viabilità. Un uomo è ora ricoverato in ospedale con ferite e fratture. Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giuliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano per una persona ferita. Poco prima un 53enne già noto alle forze dell'ordine era stato ricoverato per una frattura al femore e una contusione al volto. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare. Pare che l'uomo sia stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti dopo una lite avvenuta a Mugnano di Napoli per motivi di viabilità. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Ed emergono nuovi particolari sull'inchiesta del narcotraffico tra Spagna, Olanda e Napoli. I narcos trasportavano la droga a bordo di un'ambulanza e sommergibili. Vediamo. La cocaina arriva da Panama con i sommergibili, poi a Napoli veniva trasportata in ambulanza per non destare sospetto. Un'altra rotta della droga era quella legata al narcotrafficante Raffaele Imperiale. Sono i particolari emersi nell'operazione dei carabinieri di Dià che hanno smantellato un cartello criminale che gestiva la droga tra Spagna, Olanda e Napoli. Due i gruppi distinti che facevano entrambi capo a Bruno Carbone, braccio destro di Imperiale arrestato dopo una lunga latitanza a Dubai. 29 le persone finite in manette. Carbone riceveva gli ordini mentre era latitante grazie alle chat criptate. Il narcotraffico serviva a rifornire le piazze di spaccio di Napoli. A distribuire all'ingrosso c'era Vincenzo della Monica mentre a finanziare l'organizzazione con il ruolo anche di cassiere era il fratello. Un altro gruppo di affari invece sarebbe collegato a Simone Bartimoro, Roberto Merolla e Giovanni Cortese. Quest'ultimi avevano alleanze anche all'estero in Albania e Turchia. Tra i dettagli dell'operazione è emerso anche l'utilizzo dell'ambulanza per le consegne della droga. Un mezzo di trasporto insospettabile con tanto di autista e finto medico a bordo. Gli investigatori inoltre sono riusciti a violare le comunicazioni dei cellulari criptati e hanno intercettato carbone, arrestato a Dubai, così come il sequestro di circa un quintale di droga di vario tipo, armi e auto modificate. Ancora scontro sull'autonomia differenziata. Ieri la manifestazione in piazza Napoli, circa 200 le persone. Intanto si accende lo scontro tra San Giuliano e De Luca sui fondi europei. Mentre il treno della riforma delle autonomie delle regioni è partito in Senato, nelle piazze si mette in atto la protesta, con sindacati e movimenti e forze politiche di opposizione che hanno manifestato a Napoli ritenendo il DDL Calderoli uno schiaffo al sud. E questo è soltanto l'ultimo pezzo di un puzzle che il centrodestra, che il governo Meloni sta costruendo nel nostro paese, contro il Mezzogiorno. Perché se mettiamo in fila le scelte politiche di quest'anno, il no al reddito cittadinanza, il no al salario minimo, i soldi persi del PNRR e l'autonomia differenziata sarà la pietra tombale. Questo disegno di legge rischia di far affossare sanità e scuola pubblica. Ecco perché il mondo del lavoro non può essere contraria. Il vero problema di questa lotta giusta è che non è diventata una lotta popolare. Sarà il titolo che non viene compreso, sarà che i problemi sono tanti, sarà che viene vista una cosa lontana, ma invece questa è una cosa che morde. L'autonomia e i fondi europei diventano terreno di un nuovo scontro tra De Luca e San Giuliano. Ieri il ministro della Cultura era intervenuto a difesa della legge e della Lega, spiegando che la riforma non creerà pregiudizi alle regioni meridionali, ma solo a quelle inefficienti. E ha fatto riferimento alla regione Campania e alla spesa dei fondi europei. Abbiamo speso solo il 37% delle risorse, ha detto San Giuliano. Immediate è arrivata la smentita dall'autorità di gestione dei fondi europei della regione Campania. La spesa certificata è dell'81%, fanno sapere da Santa Lucia. Uno scambio di accuse che la dice lunga sul clima infuocato tra governo e De Luca, dopo che quest'ultimo ha annunciato la denuncia del ministro Fitto, proprio perché non vengono ancora sbloccati i fondi FSC destinate al sud. Ad Atripalda l'ex ministro degli interni Luciano Lamorgese ha incontrato gli studenti del liceo De Capraris. Disparità, autonomia differenziata e sicurezza, i temi trattati. Autonomia differenziata e sicurezza, l'ex ministro degli interni Luciano Lamorgese ha incontrato gli studenti del liceo scientifico De Capraris di Atripalda, dalla Lamorgese che ha vissuto anche ad Avellino quando il papà era prefetto, un messaggio ai ragazzi irpini delle quinte classi. Anche dal sud si può arrivare ai vertici delle istituzioni. Ho vissuto ad Avellino, quindi quando mi hanno proposto una scuola di Avellino sono stata molto contenta, non fosse altro perché conosco la realtà di questo territorio e quindi la mia esperienza e quella che il mio impegno, la passione per quello che ho fatto in tanti anni nelle istituzioni, poi mi ha portato anche ai massimi vertici. Durante il suo operato con il Conte Bis e il governo Draghi, spesso la Lamorgese è finita nel bersaglio delle critiche su migranti e sicurezza nelle grandi città. Oggi con un governo di centrodestra la situazione non è cambiata. Non dovrebbero essere temi da campagna elettorale perché i problemi esistono e non è che sono creati da un ministro o da un altro, sono problemi che sono sul tavolo. Bisogna lavorare con le istituzioni soprattutto europee. Il tema dell'incontro era quello della disparità, di genere, di reddito, di opportunità ma anche territoriali e allora il pensiero va subito all'autonomia differenziata, alla dicotomia nord-sud. Al nord hanno redditi più alti, il mondo imprenditoriale è al nord e quindi dobbiamo ragionare in termini di solidarietà tra nord e sud perché altrimenti noi rischiamo anche di creare delle sperequazioni. Situazione carceraria in Campania allarmante, lo ha ribadito oggi l'OSAP in una conferenza stampa nel carcere di Poggio Reale. Tre morti in pochi giorni, due suicidi accertati in 24 ore, un altro decesso, sospetto secondo i sindacati registrato precedentemente, sempre all'interno del carcere di Poggio Reale a Napoli. Questa mattina conferenza stampa dell'OSAP, l'organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria nel carcere partenopeo, per accendere i riflettori sulla delicata situazione che coinvolge detenuti e agenti penitenziari. È una situazione veramente drammatica, Napoli Poggio Reale è l'emblema del fallimento del sistema penitenziario, ma soprattutto del disinteresse del mondo della politica e del mondo dell'amministrazione penitenziaria. Tutti questi morti passano quasi inosservati ed è la cosa più drammatica di tutte, senza considerare che all'interno degli istituti anche la polizia penitenziaria vive un periodo veramente molto complicato per le aggressioni che subia. Con urgenza servono soluzioni, la politica deve intervenire, il monito dell'OSAP. È ora che il mondo della politica si faccia carico di questi problemi e inizia ad affrontarli. Primo fra tutti, proposto che noi abbiamo fatto anni fa, la chiusura degli ospedali psichiatrici, che erano dei ghetti ma non andavano chiusi, andavano assolutamente riorganizzati. Intanto ad Avellino, durante un controllo di routine, è stata scoperta cocaina all'interno del giubbotto di un detenuto di ritorno da un permesso. A darne notizia Orlando Scocca, coordinatore regionale per la campagna della FPCGL Polizia Penitenziaria, che ha evidenziato la dedizione degli agenti nonostante le difficoltà. Inflazione alle stelle a Benevento, il capoluogo sanita secondo l'Istat è la città in cui i prezzi sono cresciuti di più nell'ultimo anno. Sentiamo. Benevento, città più cara d'Italia. L'analisi dell'Istat identifica una crescita di prezzi tripla rispetto alla media nazionale. Un aumento che riguarda sia l'ultimo mese, dicembre 2023, che l'intero 2023, quando le famiglie nel Sannio hanno dovuto sborsare 1.284 euro in più rispetto all'anno precedente. Girando un poco per le varie città si nota questo rialzo di prezzi a Benevento. L'alimentare è diventato proprio alto. Purtroppo siamo in quattro, si nota l'aumento. Ormai la pensione non basta più e dobbiamo stringere sempre più la cinta, quello è il nostro problema. Sì, è vero. Nell'ultimo periodo i prezzi sono aumentati sia a livello di prodotti alimentari e anche a livello di alloggi. Comunque c'è stato proprio un rincaro, diciamo, in ogni settore, se vogliamo dire così. Ogni mese diventa sempre più difficile. Ci sono rinunce da fare. Un dato singolare, un'anomalia inflattiva per la quale il sindaco Clemente Mastella ha chiesto spiegazioni al garante sulla sorveglianza dei prezzi nelle scorse settimane. Per noi che siamo due persone ancora ce la facciamo, ma io penso alle famiglie che hanno un bambino, due bambini, ecco perché oggi non ci sono tante nascite. Sarebbe buono fare degli interventi per calmerare l'aumento dei prezzi e aiutare la popolazione a vivere qui. Scontro sulla sanità in provincia di Salerno. Il sindaco di Scafati denuncia per un incidente. Sono arrivate due ambulanze in ritardo e senza medico. Vediamo. Il governo deve intervenire in Campania per commissariare la sanità. è l'affondo lanciato dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti a seguito di un incidente con tre feriti avvenuto ieri sera nella città dell'Agro. Il primo cittadino presente sul posto ha denunciato che entrambe le ambulanze sono intervenute in ritardo e senza medici a bordo. Una circostanza per la quale Aliberti ha chiesto una relazione ai vigili. Al fine di rafforzare la battaglia giudiziaria contro l'ASL che è stata intrapresa per il ripristino dell'emergenza presso l'ospedale cittadino. Dopo fai il rapporto a chi è la sua vita. Signorina, fai questo nome. Fai il presente, stavate qua, facciamo il rapporto. Dopo facciamo il rapporto. Quando arriva la prima ambulanza e quando arriva la seconda ambulanza. Accusa a cui ha replicato il direttore generale dell'ASL, Gennaro Sosto, che pur ammettendo le carenze ha condannato il comportamento del sindaco. È spiacevole dover commentare queste cose. È spiacevole da parte nostra perché le istituzioni escono sulla stampa dicendo che ci sono aggressioni nei confronti degli operatori. Noi operatori ne troveremo sempre di meno così andando avanti. Già noi siamo in grande difficoltà. Cerchiamo di tirare fuori delle evidenze e dei concetti. Non è che i medici ci siano e l'azienda sanitaria li tiene conservati in un cassetto. Se oggi non ci sono medici su alcune ambulanze è perché non si trova la possibilità e la disponibilità da parte dei medici ad andare sulle ambulanze. È forse uno dei motivi per cui non si trova è proprio questo tipo di atteggiamento. Il vice sindaco di Benevento Francesco De Piero getta acqua sul fuoco riguardo al momento di difficoltà vissuto dai mastelliani e rassicura il rapporto tra Mastella e De Luca è ottimo. Nessuna difficoltà, nessun patema d'animo dopo gli addi degli ultimi giorni. Il vice sindaco di Benevento Francesco De Piero si mostra sicuro circa il movimento mastelliano spiegando che la fase di evoluzione non è fase di difficoltà anche sul fronte dei rapporti con il governatore De Luca. I rapporti tra Mastella e il governatore della regione Campania sono assolutamente rapporti eccellenti e di grande cordialità istituzionale e di grande anche rapporto umano e amicale. Mastella continua a sentirsi regolarmente e normalmente con il presidente De Luca i consiglieri vanno via, i voti rimangono dove sono, ossia nella guida del leader Clemente Mastella. Il contenitore di Clemente Mastella rimane un contenitore politico molto forte, non a caso primeggia Benevento, non è vero che è arroccato a Palazzo Mossi, primeggia ancora alla provincia che contro i partiti continua ad avere la maggioranza anche nella provincia di Benevento. E per quanto attiene a un possibile approdo nel centrodestra, il vice sindaco affida ogni decisione al leader Mastella. Lui ha relazioni infinite con tutto il mondo, il panorama politico nazionale, a differenza di molti altri che invece millandano rapporti e relazioni che francamente non hanno, parla la storia, parlano i 50 anni di storia parlamentare e non solo, le scelte le decide e le determina l'onorevole Mastella. Un altro passo per l'aeroporto di Salerno. L'Enav ha dato il via libera definitivo per l'apertura dal primo luglio. Per la città si prospetta una vera e propria rivoluzione turistica. L'aeroporto di Salerno potrà vedere decollare i primi voli da luglio. L'ente nazionale per l'aviazione civile ha dato l'ok all'apertura della pista. Si tratta di un passaggio formale, ma decisivo per l'entrata in esercizio del Costa de Malfi, dove nel frattempo sono terminati i lavori per il nuovo piazzale. Ancora aperto invece il cantiere per segnaletica e illuminazione, ma il cronoprogramma stilato da GESAC è rispettato. Da luglio dunque l'aeroporto di Salerno entrerà finalmente in attività. Le compagnie abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa con la direzione sviluppo network dell'aeroporto di Capodichino, con la GESAC, e ci è stato detto che sono in trattativa innanzitutto con una delle due compagnie Ryan o EasyJet, quindi una delle due sicuramente volerà da Salerno. Qualche rumor ci dice anche che Volotea potrebbe essere interessata a Salerno, quindi già sono compagnie molto importanti che attendiamo veramente con grande ansia da anni. L'obiettivo è attuare fin da subito una stretta sinergia turistica di promozione del territorio in collaborazione con Napoli Capodichino. Sicuramente avremo qualche nuova tratta, però qualche tratta anche sicuramente sarà spostata all'aeroporto di Capodichino, quindi siamo in attesa perché chiaramente anche noi operatori turistici abbiamo necessità di capire le nostre programmazioni se possiamo appoggiarle sull'aeroporto di Salerno, dove speriamo, piuttosto che su quello di Napoli. Si dice anche di qualche volo internazionale, quindi veramente grossa attesa, grossa trepidazione perché ci è stato assicurato che tra qualche settimana avremo notizia ufficiale, quindi veramente ormai l'attesa è di pochi giorni. Era l'ultimo servizio, il Tg termina qui, grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.